Le prime donne che erano incrociate in Palestina furono sbarcate, eravamo noi noi svergognate, le prime vere femmine incrociate. Nel nuovo mondo fummo i quaranta, le prime donne della Spagna e Santa. Prima dei preti noi fummo sbarcate, ai cacicchi poi fummo vettute, noi siamo il faro di civiltà, nel benedame di carità. Vendiamo amore che non ha prezzo, di sottobanco e a sottoprezzo. Quando nel tempo ormai passato, in case chiuse si faccia peccato, il nostro amore ci viene tassato e circa un terzo si prende allo Stato. Con questi soldi anche al colato si sono pagati una corazzata, una corazzata. e un incrociatore che ancora oggi se ne va sul mare. Tutto pagato del nostro amore, 30 per cento del nostro amore. Se pensi poi che i marinai, la quindicina, con noi l'hanno spesa, e che noi di nuovo l'abbiamo resa, per un bel terzo il nostro reggio Stato. Risulta chiaro che abbiamo coperto tutte le spese dell'ammiragliato, e il nostro Stato per la sua fregata, manca una lira bra così sforzata. Noi siamo il faro di civiltà, e vedere le dane di carità. La patria sempre ricordà, ci dovrà. E quando passa un incrociatore, pensare è fatto col nostro amore.